OST 2023 continua, ci troviamo allo stand di Blu Pura, l'azienda italiana che si occupa di sistemi di depurazione dell'acqua e siamo in compagnia di Deborah Screpanti, la responsabile marketing dell'azienda. Cara Deborah, bentornata. Grazie Fabio, ancora una volta grazie per l'opportunità e per raccontare la nostra storia. La vostra storia ormai è il presente, non più il passato, perché voi continuate a fare storia e nel settore del vending e nel settore dell'oreca con tutte le tantissime novità che andate a presentare puntualmente in ogni fiera di mercato. Siamo arrivati a OST 2023, qual è la novità o per meglio dire le novità presentate in questa occasione? Sì, quest'anno abbiamo lavorato tantissimo su dei progetti importanti per noi, l'ultimista novità è Rebel, un prodotto studiato per il mondo della ristorazione, piccola ristorazione bar con tecnologie all'avanguardia, di nuova generazione, quindi un boiler avanzato che permette di fare acqua fino a 98 gradi e l'acqua fredda con un banco di ghiaccio da 30 litri ora disegnato per avere dell'acqua super fredda, infatti noi parliamo di acqua estremamente fredda, estremamente calda e quindi Rebel non poteva essere il nome migliore che potevamo dare. Inoltre per la prima volta presentiamo anche la filtrazione integrata al suo interno con la linea per l'acqua fredda e la linea per l'acqua calda, quindi per avere e preservare anche il nostro boiler, una filtrazione blupura, per la prima volta blupura presenta i filtri sul mercato dell'acqua e va a completare questo prodotto a 360 gradi ma si aggiungono anche una serie di filtri destinati alla nostra gamma di refrigerazione dell'acqua che noi conoscete già da oggi. Sono filtri destinati esclusivamente ai prodotti realizzati da blupura oppure adattabili anche ad altre attrezzature sul mercato? Sono prodotti destinati agli erogatori dell'acqua ad oggi, questi filtri e quindi abbiamo una vasta gamma che va a coprire le esigenze più varie perché grazie all'esperienza che abbiamo sul mercato in 75 paesi nel mondo abbiamo il know-how e la conoscenza per sviluppare la giusta filtrazione e vanno a completare gli erogatori dell'acqua da bere che sono distribuiti su tutto il mondo, quindi non solo a legna blupura ma a qualsiasi altro prodotto. Deborah alle nostre spalle c'è un potrei dire una selezione di macchine di vostra produzione di ultima generazione, facciamo un brevissimo riepilogo di cosa si trova alle nostre spalle Sì, oggi ad Oste abbiamo tutta la linea blue glass, quindi la linea in alta gamma con vetro temperato e acciaio inox, da rubinetteria da una a due vie con porzionatura volumetrica a un non alla plus collegabile all'IoT, invece la versione 30 litri ora che funziona anziché che banco di ghiaccio con il dry cooling, quindi una gamma completa con acqua calda, acqua fredda, acqua gassata leggermente gassata che va a ricoprire un po' tutte le esigenze e poi anche tutta la linea sotto banco con anche il box ultima generazione, il box 100, 100 litri ora a dry cooling, quindi con una fusione di alluminio che garantisce ottime performance senza dover ricaricare il banco di ghiaccio. E allora diamo a tutti loro l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere per avere maggiori informazioni? Assolutamente, info chiocciolabluepura.com per scriverci e www.bluepura.com per scoprire Rebel Bluetron e tutta la linea per le ospitali. Grazie Deborah Screpanti responsabile marketing di Blupura, noi ci rivediamo tra pochi mesi con tante altre novità marchiate Blupura. Oh sì, la Rebel è solo un inizio, ci saranno diversi sviluppi, uscirà l'anno prossimo la versione da 60 litri ora con display e IoT integrato, quindi tornate a trovarci.